Il passaggio in Consiglio Comunale segna finalmente una nuova epoca per la pinità di Roio che dopo anni di abbandono potrà essere finalmente riqualificata. In Consiglio Comunale, infatti, prima della mancanza del numero legale, è passata la proposta deliberativa riguardante la regolamentazione provvisoria della gestione dei beni di uso civico in promiscuità tra i demani dell'Aquil e Roio. Con questo atto il Comune permette in sostanza all'ASBUC di Roio, tra l'altro, di gestire direttamente anche i beni patrimoniali che sono a Monteluco. L'ASBUC è pronta da tempo con un progetto di riqualificazione perché l'obiettivo è partire immediatamente con i lavori. Il Comune è riuscito a recuperare anche grazie all'assessore imprudente 200.000 euro per intervenire intanto sull'area incendiata. Gli usi civici poi hanno a disposizione altre risorse, altre ne arriveranno ancora, con i contratti che verranno stipulati con i titolari dei tralicci presenti a Roio, fondi che serviranno da reinvestire per il territorio e per la riqualificazione della pineta che è una priorità. Il progetto è molto ambizioso e prevede diversi interventi. Sarà predisposta una passerella per i portatori di handicap così che anche loro possano fruire dell'area verde. Ci saranno sentieri per poter fare i percorsi in bici. La gabbia del lupo, che è stata meta per anni di Aquilani, diventerà un orto botanico. Per quanto riguarda lo chalet e la rotonda, questi sono stati oggetto di un concorso di idee con la Facoltà di Ingegneria, per cui c'è un progetto. Lo chalet manterrà la sua destinazione di attività di ristorazione, mentre la rotonda, che è accatastata come teatro e che in passato veniva utilizzata come luogo di aggregazione post-guerra per gli incontri di box, diventerà un punto turistico informativo, con area di nolo bici, mentre all'esterno sarà creata un'area per attività ludico-ricreative, che verranno portate avanti anche nella casetta degli Alpini, di recente ristrutturata da loro e gestita dalla stessa associazione. L'amministrazione dei beni separati è guidata dal presidente Domenico Totani. I consiglieri sono Anna Fadigadi, Giuliana Perigli ed Emilio Totani, che hanno voluto ringraziare anche l'assessore Imprudente. C'è stata infatti una sinergia vincente, che dopo anni 25 di lungaggini è riuscita a superare l'ostacolo per lo scioglimento definitivo delle premiscuità.